Un bonus da 80 euro anche per le neomamme. L'annuncio del Premier Matteo Renzi è stato accolto indubbiamente con favore da quelle famiglie con figlio che stanno pensando di averne. La provincia autonoma di Bolzano però potrebbe essere esclusa dal bonus. Vediamo poi come in modalità precise come il Stato vorrà poi proseguire per i pagamenti e lì dipende un attimino perché non abbiamo l'accesso a tutti i fondi dello Stato. Se entra nel fondo per le famiglie come adesso stanziato la nostra provincia autonoma non ha diritto di accesso cioè non può usufruire di questi fondi e se avviene attraverso questo fondo noi non potremmo usufruire di questi soldi che mi dispiacerebbe tantissimo. L'annuncio del Premier Renzi viene presto ridimensionato se si fa un confronto con le politiche assistenziali del resto della comunità europea. In Francia ad esempio ogni famiglia riceve già 130 euro al mese per figlio andando ad aumentare per ogni ulteriore figlio a carico. Per l'assessore provinciale Dego ovviamente l'annuncio del bonus di 80 euro alle neomamme va visto con positività ma servono altre misure concrete in favore delle famiglie ad iniziare ad esempio dalla semplificazione delle domande per ottenere i contributi. Adesso abbiamo più possibilità di chiedere più contributi e sarà la strada da trovare cioè di riunire un attimino i diversi fondi e di far accedere con un'unica domanda di accesso poi anche far accedere le famiglie a questi fondi. Con lo Stato ci mettiamo in trattativa e vediamo come possiamo risolvere proprio questo nodo.